Sono Vanzolino Lorenzo, seguo il progetto Civetta, ho partecipato al corso di Magentiamo qui a Roma. L'impressione particolare del corso è perché ha dato una visione completa per quanto riguarda il prodotto di Magentos, dall'inizio, quindi dall'installazione, fino a quelle che sono le pratiche buone per gli sviluppatori e anche per quanto riguarda quelli che sono i merce. Magentos